Musica Preside, è il primo mandato come dirigente scolastica, siamo a Ligio Classico, una scuola importante per la nostra città e per il nostro territorio. Come è iniziato questo anno? Il mio primo anno a Crotone come dirigente del Ligio Classico non poteva iniziare in modo migliore, e cioè con il rientro in presenza dei ragazzi. Elemento a cui ho tenuto particolarmente durante i miei primi due anni a Bergamo, perché lì in ogni caso siamo riusciti a garantire la presenza. Ed è un elemento per il quale ci siamo spesi in tutti i modi, quindi tornare a Crotone e poter dare il mio contributo per garantire ad ognuno di questi studenti La didattica in presenza è sicuramente un elemento che mi riempie di ulteriore entusiasmo. Il mio entusiasmo, quello di base, non manca mai. Ci sono alcuni elementi che lo arricchiscono. Poter lavorare quotidianamente attraverso anche la presenza dei docenti e dei miei studenti è sicuramente un incentivo, un input a dare ancora di più, a fare ancora meglio. Questo è un istituto, il Ligio Classico, dove c'è anche tanta arte e tanta passione per l'arte? Sì, sì, sì. Poi c'è un indirizzo dedicato a Aureus, che effettivamente è uno dei fiori all'occhiello dell'istituto ed è qui che viene valorizzata appunto la creatività degli studenti attraverso forme diverse, la fotografia, lo studio approfondito dell'arte e devo ringraziare proprio le docenti del corso Aureus che hanno organizzato una settimana dell'accoglienza improntata proprio alla creatività, all'originalità che ha coinvolto proprio gli studenti, soprattutto dell'indirizzo in questione, quindi canto, musica, rappresentazioni teatrali e quindi devo dire che effettivamente anche al Ligio Classico si riesce ad approfondire questo aspetto che comunque è un aspetto importante su cui lavorare a 360 gradi. Le indicazioni ci spingono in questa direzione, quella comunque di andare al di là dell'obiettivo legato alle competenze, alle abilità disciplinari per tirare fuori quelle che sono le potenzialità degli studenti e dare risalto alla loro creatività che si può esprimere attraverso diverse forme. Lei ha ragione, si può esprimere attraverso diverse forme e dobbiamo dire dopo il lockdown, vedere e restare insieme gli studenti è già questo un grande successo. Per quanto riguarda le regole, tutto a posto? Sì, decisamente tutto a posto, nel senso che le regole ci sono poche, chiare e soprattutto condivise. Devo essere onesta, per quanto riguarda il rispetto delle regole, ho soltanto chiesto ai miei studenti grande, grande collaborazione. Ho fatto capire loro che la difesa di questo ritorno in presenza dipende molto da loro, dal loro senso di responsabilità, dalla messa in atto di quelle che sono regole ormai note, perché nulla è cambiato, sono sempre le medesime regole. Quindi basta che tutti siamo attenti perché si possa continuare a lavorare bene insieme in aula fino alla fine dell'anno. Mi sembra che ci sia la voglia di attenersi, perché i ragazzi hanno capito durante il periodo lockdown che la scuola è bella, è importante, è ciò di cui hanno bisogno, perché la scuola è relazione, è socializzazione, elementi base per veicolare qualsiasi insegnamento che voglia dirsi di qualità e valido. Sono i primi a dire sì, c'è mancata, la vogliamo difendere, quindi insieme lavoreremo anche rispetto ai nostri compagni qualora dovessero dimenticare o mostrare una certa superficialità per riportare tutti all'ordine. Quindi le regole stanno diventando il nostro punto di riferimento comune per difendere ciò che ci è mancato in questi due anni, perché allora è mancato tanto. Sono aumentate le iscrizioni all'Iceo Classico? Allora sì, perché rispetto agli studenti in uscita delle ultime classi c'è stata un'impennata nelle iscrizioni, quindi il numero dei nuovi ingressi è superiore a quello dei ragazzi in uscita. Lavoreremo anche su questo aspetto, fermo restando che non sono i numeri delle iscrizioni che determineranno le mie scelte. L'obiettivo è offrire un apprendimento e un servizio di qualità, quindi è sulla qualità che lavoreremo. Qualità significa anche tener conto di quello che i due anni di didattica a distanza hanno comunque lasciato. Ci sono dati nazionali che sottolineano il bisogno di agire inizialmente su un recupero ed è quello che abbiamo messo in cantiere. Non vogliamo cancellare ciò che è stato, né dare meno importanza di quanto non ne abbia effettivamente alla necessità di accompagnare nuovamente gli studenti a riprendere lo studio in maniera tradizionale, cioè riprendere a studiare con il supporto dei compagni, con il supporto dei docenti, attraverso il materiale a cui sono abituato, senza mettere da parte l'importanza dell'innovazione, perché ormai ci siamo mossi in quella direzione, e dico fortunatamente, perché ci siamo arrivati anche con ritardo in generale. Innovare significa scegliere adeguatamente i contenuti, stimolare gli studenti rendendoli protagonisti di questo famoso processo di insegnamento e apprendimento con uno sbilanciamento verso l'apprendimento, direi, e quindi variare gli strumenti, prestare attenzione all'aula. Del resto abbiamo finanziamenti ministeriali che ci spingono ad una scelta oculata, delle spese attente. In questo lavoreremo come staff e poi porteremo le decisioni in collegio perché ci sia questo grande fermento così da poter arricchire la dotazione strumentale, effettivamente migliorare il setting d'aula. È quello che al momento ci siamo proposti di fare. Vedo che lei ha le idee molto chiare e soprattutto l'innovazione è fondamentale perché ormai, dobbiamo dire, i giovani sono cambiati e quindi è una società diversa da quella del passato. In tutto questo i docenti sono disponibili, hanno colto questo messaggio che lei ha lanciato? Allora, io dico sì, ma lo dico perché mi è stato confermato e se mi è possibile rileggo le loro parole, quelle che mi hanno poi aiutato a vivere il primo giorno di scuola con una carica aggiuntiva. I docenti mi scrivono iniziamo il nostro percorso insieme a lei con speranza e fiducia, pronti ad affiancarla con impegno e passione per raggiungere nuovi traguardi. Io nel mio primo collegio e poi anche nel saluto ho rimarcato l'importanza per un liceo classico di dare valore alla tradizione, a una delle migliori tradizioni scolastiche attraverso dei coerenti innesti innovativi. Quindi tradizione non significa rimanere uguali a se stessi, ma prestare attenzione a quelli che sono gli stimoli provenienti dall'esterno, provenienti dall'utenza interna e dare risposte adeguate. Siamo professionisti della formazione, quindi significa saper progettare e adeguare la nostra risposta in relazione ai bisogni espressi, inespressi, legati all'utenza, così come al contesto nazionale e internazionale. È necessario questo adeguamento, per cui innovare significa semplicemente apportare quelle migliorie che sono necessarie. Non vogliamo rivoluzionare il liceo, vogliamo semplicemente rafforzare e dare maggiore valore a quello che è già di buono viene fatto. Una formazione a 360 gradi, ecco, i punti cardine sono quelli che rappresentano la formazione e la cultura del liceo classico, però l'innovazione serve anche ai giovani per scoprire ed essere attirati da quello che rappresenta appunto il fulcro di questa formazione classica. Sì, allora, ritornando un po' a quello che ci stavamo dicendo, quanto il collegio sostenga questa spinta all'innovazione, da subito abbiamo portato avanti le attività del piano estate, c'erano ancora questi finanziamenti disponibili per cui ci siamo messi in moto e abbiamo realizzato dei progetti, tra questi uno proprio destinato alle materie di indirizzo latino e greco. Le docenti hanno ben interpretato questo desiderio di innovazione perché era già loro, quindi è un desiderio in sito in ognuno di questi docenti e hanno portato avanti delle attività di potenziamento e consolidamento, ma attraverso metodologie e strumenti diversi. Si può fare, si può fare. I risultati sono stati sicuramente incoraggianti, tant'è che porteremo quanto emerso nei dipartimenti, perché sono i luoghi per la progettazione e poi cercheremo di continuare, quindi non soltanto un momento, un momento legato al piano estate, ma un momento che deve diventare una proposta strutturale di approccio a materie che effettivamente possono essere ostiche, tutte le materie di indirizzo possono creare difficoltà, non è opportuno nascondersi dietro un dito né fingere che non esistano. Noi invece possiamo, a partire dalle difficoltà, sperimentare nuove strategie e dare risposte adeguate ai nostri ragazzi. Lo studio è bello, non bisogna che abbiano paura o che la difficoltà debba diventare una barriera. Quindi agire per evitare che insorgano difficoltà e soprattutto fare distinzione fra ciò che è complesso e ciò che diventa e o viene vissuto come estremamente difficoltoso. La complessità è da portare avanti, perché non è detto che dobbiamo assegnare compiti semplici, ma dobbiamo mettere in condizione gli studenti di affrontare la complessità senza che questa diventi un impedimento. È un'apertura per i giovani questa, dobbiamo dirlo, perché in ogni caso quando si pensa al liceo classico si pensa a una formazione diciamo tradizionale. Invece è tanta l'innovazione che lei ci sta dicendo, tenendo conto anche che il liceo classico è una di quelle scuole che ha partecipato a diversi eventi, eventi importanti e quindi per i giovani è una scommessa costante perché uscire da una scuola con una formazione anche culturale aperta significa avere la possibilità di fare delle scelte adeguate anche per il loro futuro. Sicuramente, in effetti siamo reduci da un premio per l'innovazione e ringrazio la professoressa Ripolo, la professoressa Greco, tutte le professoresse che hanno partecipato con il podcast di filosofia, filosofia, disciplina tradizionale però veicolata attraverso strumenti nuovi. Abbiamo realizzato il laboratorio per la creazione dei podcast. I ragazzi sono entusiasti per cui è il chiaro esempio che non si sottrae nulla all'impronta tradizionale che caratterizza l'istituto che vogliamo difendere in quanto tale. Piuttosto si aggiunge si aggiunge perché si dà la possibilità agli studenti di sperimentare altre strategie e di rendersi protagonisti nel momento in cui apprendono. Quindi lavorano con quei contenuti, con quegli strumenti, acquisiscono l'abilità del saper fare e poi pian pianino diventano competenti. È semplicemente un approccio diverso ed è un approccio che può confidare anche nell'ausilio di nuovi strumenti. Tutto ciò che serve per rendere più efficace l'intervento didattico-educativo è giusto che venga preventivamente individuato dal docente e quindi poi messo in atto. Abbiamo tanti strumenti, perché non utilizzarli? Perché non variare? Lei faceva riferimento anche ai finanziamenti. Quindi questo significa che la scuola si può modernare con gli strumenti sotto tutti i punti di vista. Tenendo conto che noi siamo una realtà distante dal resto del paese, dall'Italia, e soprattutto che quando pensiamo ai giovani e guardiamo ai giovani come quelli che sono costretti in qualche modo ad emigrare, non solo per l'università, ma anche per il loro futuro, ecco, creare le condizioni è possibile perché questi giovani decidano di rimanere nella propria terra. Vabbè, domanda impegnativa nel senso che non basta semplicemente la formazione, una formazione che si arricchisce aprendosi anche alle soft skills. In realtà serve anche che il contesto diventi accogliente e quindi offra reali opportunità ai nostri giovani di rendere il contributo alla terra che li ha visti di nascere e crescere. È un po' quello che è successo a me. Non vedevo l'ora di rientrare perché in questi due anni so di aver dato tantissimo. Quello che mi lasciava il segno e un po' l'amaro era la stessa ricorrente domanda. Perché non potermi dedicare al territorio a cui appartengo, a cui tengo particolarmente? Cioè vorrei dare al mio territorio questa grande energia, restituire quindi qualcosa al mio territorio perché di fatto quello che sono è anche legato al luogo in cui sono nata e cresciuta. A me la possibilità si è offerta perché attraverso lo studio, l'impegno, ecco oggi ho la possibilità di essere nuovamente qui. Spero che ai miei studenti ma a tutti gli studenti, a tutti i giovani si possano aprire questi spiragli. Io in questi giorni di accoglienza ho ripetuto e anche scritto ai miei ragazzi, li sento miei perché io amo gli studenti quindi ho cominciato a sentirli miei da subito. Ho scritto loro e ho detto loro che mi aspetto impegno sempre e comunque amore per lo studio perché lo studio è bellissimo e amore per il sacrificio. non deve spaventare il sacrificio il sacrificio non fa male arricchisce e dà sapore a quello che conquistiamo quindi è una raccomandazione che sto facendo tutti quanti nei miei incontri quotidiani li ho salutati ho augurato loro buon inizio d'anno e non ho mai dimenticato di far riferimento a questi tre elementi. Amore per quello che si fa quindi per lo studio spirito di sacrificio perché non guasta mai è costanza. Sono gli ingredienti che hanno fatto che hanno dato tanto a me mi sento di poterli suggerire alle nostre nuove generazioni. Lei ha vinto il concorso quindi possiamo dire che a Crotone sono pochi quelli che lo hanno vinto e soprattutto che questo ritorno nella propria terra da quello che lei sta dicendo è sicuramente il segnale di amore verso Crotone e di voler contribuire a che questa terra possa avere delle generazioni sempre migliori. Sì amore per la mia terra amore per la mia famiglia viaggiano in parallelo ovviamente l'uno incoraggia l'altro detto questo sì crotonesi vincitori di concorso pochi però devo dire tanti colleghi calabresi che sono stati costretti come me a vivere l'esperienza della dirigenza fuori lontano da casa dai propri effetti e spero per tutti quanti quello che è già capitato a me un rientro perché la differenza c'è tanta si lavora con maggiore serenità quando si può lavorare godendo dell'affetto e del supporto dei propri cari e quando lo si fa in un territorio che è quello tuo quello che senti ti appartenga e al quale appartieni è un elemento che rafforza la voglia di fare ci dà la possibilità di agire sicuramente meglio di lavorare con una serenità diversa quindi approfitto per augurare davvero un ritorno pronto ai miei colleghi crotonesi e calabresi che sono ancora fuori fermo restando che l'esperienza vissuta in particolare a Bergamo è stata un'esperienza positiva arricchente bella che non rinnego e che invece insomma sottolineo in tutta la sua importanza perché i miei primi due anni in un contesto completamente diverso potevano essere particolarmente difficili ma alcuni elementi mi hanno aiutato a non vivere questa difficoltà cioè l'accoglienza che mi è stata riservata da tutti mi sono sentita da subito parte della comunità educante e questo devo dire mi ha favorita Lei faceva riferimento a Bergamo è diversa la scuola al nord e al sud o ci sono dei punti di contatto? No non è diversa la scuola nord sud sicuramente ci sono dei punti di contatto gli studenti sono studenti analoghi su tutto il territorio italiano un elemento di differenza l'ho rintracciato nel rapporto che si instaura con le amministrazioni locali io ho avuto la dirigenza di un istituto comprensivo piuttosto grosso nelle sue dimensioni quindi un comprensivo che abbracciava otto plessi distribuiti su quattro comuni quindi un rapporto costante con quattro amministrazioni eppure con tutte e quattro sono riuscita ad impostare un'azione collaborativa di grande spessore eppure eravamo nel periodo pandemico Bergamo è stata quella più colpita ecco se non avessi avuto quel supporto costante e le risposte immediate che mi sono state fornite mi sarei ritrovata in serie difficoltà il dialogo il rapporto con le istituzioni è un elemento fondamentale perché la scuola da sola può arrivare solo fino a un certo punto al momento io ho avuto la necessità di sistemare gli studenti in giardino nella corte interna in palestra perché avevo l'obbligo di garantire la ripresa in presenza obbligo che ovviamente per me si è tradotto in un piacere però i limiti strutturali ci sono sono sotto gli occhi di tutti ed effettivamente l'amministrazione sta cercando di dare risposte però i tempi sono un po' lunghi ecco mai trascurare questo rapporto sempre cercare il dialogo scuola istituzione in modo che insieme si possa arrivare alle soluzioni più appropriate il dialogo il dialogo fra tutti gli attori che possono e devono dare un contributo stiamo parlando di un diritto costituzionale quello all'istruzione ed è interesse di tutti se non lo vogliamo intendere per quello che è cioè un diritto costituzionalmente riconosciuto rimane comunque l'elemento fondante di ogni territorio cioè la cultura è l'elemento che può solo dare ad un territorio per cui conviene fare il più grosso investimento e fare in modo che la scuola riesca ad assicurare il meglio agli studenti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.